Un mese fa la tragica alluvione che ha devastato la zona di Ginosa. Cittadini e imprenditori sono accorsi oggi a Bari per chiedere il riconoscimento urgente dello stato di calamità. Vito Marinelli. Risorse vere non solo per la messa in sicurezza del territorio ma anche per i danni subiti dalle famiglie. Ad un mese dalla tragica alluvione che ha colpito l'arco ionico a cavallo tra le province di Taranto e Matera, residenti e imprenditori della zona spingono per un urgente riconoscimento dello stato di calamità naturale. Martedì una nostra delegazione sarà a Roma per porre due questioni. Soprattutto al Ministero dell'Economia ci sono i fondi, 1.650.000 euro circa del 2011 per le famiglie di Marina di Ginosa che sono in graduatoria e possono avere il 27% dei danni subiti, conquistati dalla mobilitazione del comitato e che sono fermi per un visto che non viene messo dal Ministero. Altra richiesta su cui il comitato terraioniche preme è la nomina di un commissario straordinario unico per Puglia e Basilicata al fine di ottimizzare in maniera adeguata gli interventi in un territorio che presenta caratteristiche comuni. Intanto per giovedì 14 novembre è in programma una nuova giornata di mobilitazione lungo la statale 106 tra Ginosa Marina e Metaponto. Grazie a tutti.